Un buon pomeriggio dai live e benvenuti al telegiornale. In apertura quest'oggi parliamo di elezioni, infatti fra poche ore aprono le urne, sono ore di silenzio e sono ore di riflessione, si aprono le urne per le amministrative in otto comuni bresciani e anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Andiamo però con ordine e cerchiamo di fare chiarezza, di capire qualcosa di più su questa consultazione in merito al taglio dei parlamentari. Una giornata intera di riflessione sul taglio dei parlamentari e sulla scelta del prossimo sindaco. Il referendum chiede di fatto di confermare la legge del Parlamento che impone della prossima legislatura il taglio dei parlamentari. Votandosi ci si esprime d'accordo sul lavoro del Parlamento e sulla riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e senatori da 315 a 200. I posti per i candidati all'estero scenderanno da 18 a 12, mentre la soglia minima dei senatori per ciascuna regione passerebbe degli attuali 7 a 3. Votando o no si boccia la riforma e tutto rimarrà invariato. Trattandosi di un referendum confermativo non è richiesto il quorum del 50% più 1, ma la consultazione sarà valida con qualsiasi percentuale di partecipazione e vincerà chi avrà ottenuto più voti. Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum sulla legge costituzionale, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Se prevarranno i sì, entrerà in vigore la legge che, a partire dall'elezione delle nuove camere, ridurrà il numero dei parlamentari elettivi dagli attuali 945 complessivi a 600 totali, 200 senatori elettivi e 400 deputati. Se prevarranno i no, l'attuale numero dei 945 parlamentari elettivi resterà invariato, mantenendo 315 senatori elettivi e 630 deputati. Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it Ora che abbiamo scoperto qualcosa di più per quanto riguarda il referendum, sia con il tema del voto, sia con orari e modalità, ci spostiamo sulle comunali, sulle elezioni amministrative, con il nostro tour elettorale che abbiamo fatto in questi ultimi giorni negli otto comuni bresciani al voto. Si conclude ovviamente qui con l'ultima tappa a Quinzano-Doglio, dove i candidati alla poltrona di sindaco sono tre dopo il commissariamento. 6.390 abitanti e 4.780 elettori. Stiamo parlando di Quinzano-Doglio, uno degli otto comuni bresciani che il prossimo 20 e 21 settembre saranno chiamati a rinnovare la propria giunta e il proprio sindaco. Visto il numero di abitanti, l'elezione avverrà in un unico turno. Dopo il commissariamento della prefettura a causa delle dimissioni nel novembre del 2019 dell'ex sindaco Andrea Soregaroli, insieme a sette consiglieri di maggioranza e quattro di minoranza, ora sono tre i candidati per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino, Adriano Perotti, Pietro Kruber e Lorenzo Olivari. Adriano Perotti, 58enne di professione financial advisor ed ex assessore al bilancio, si candida sostenuto dalla lista Quinzano-Paese. Pietro Kruber, 70enne pensionato, si candida invece sindaco nel comune con la lista Nuova Civica per Quinzano. E infine Lorenzo Olivari, imprenditore 39enne nel campo della comunicazione, si candida sostenuto dalla lista Cambiamo Quinzano. Voltiamo ora pagina, parliamo di cronaca e ci spostiamo a Casazza nel quartiere cittadino. Questa mattina è stata una mattinata movimentata, infatti i cittadini che abitano nei pressi di via Casazza si saranno svegliati con le sirene sia di polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Infatti una donna, un'anziana signora di 82 anni, dopo essersi svegliata e aver trovato purtroppo il corpo del marito senza vita, ha accusato un malore. Risveglio movimentato per gli abitanti del quartiere Casazza con le sirene di ambulanza, polizia di stato e vigili del fuoco. In un'abitazione della via è stato trovato il corpo senza vita dell'anziano proprietario, mentre la moglie è stata colta da malore. L'allarme attorno alle 7.20 della mattina. Qualcuno ha provato a contattare la coppia di anziani senza ottenere risposta e ha quindi deciso di chiedere aiuto. Sanitari e forze dell'ordine giunti sul posto hanno trovato l'uomo di 83 anni ormai deceduto, mentre la moglie di un anno più giovane è stata trasportata al civile a seguito del malore. Intervenuto anche il personale della polizia scientifica, ma dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero esserci i presupposti per pensare a un qualche tipo di dolo. Semplicemente l'anziano marito si sarebbe spento nella notte e a risveglio la moglie, nel vedere il corpo del compagno di una vita, sarebbe crollata in uno stato di shock. Per lei ricovero in codice rosso nel maggiore nosocomio cittadino. Di certo la storia che stiamo per raccontarvi non capita spesso, ma è successo a Brescia nella questura dove nei suoi uffici si è presentato un uomo, un trentenne di origine tunisina, condannato nel 2018, pensate un po', per farsi arrestare. Non capita sicuramente tutti i giorni che un condannato si presenti in questura con tanto di valigia per farsi arrestare. Eppure a Brescia è successo. Desiderio non si sa quanto realmente sognato, puntualmente realizzato dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno scortato accanto a Monbello. Stiamo parlando di un tunisino di trent'anni residente nella nostra provincia e condannato dal Tribunale di Brescia nel 2018 a una pena di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di estorsione. Un vecchio debito con la giustizia che evidentemente ha deciso di pagare presentandosi di sua spontanea volontà negli uffici della questura cittadina, con addirittura la valigia pronta in mano. Dopo la richiesta di notifica degli atti subito sbrigata, gli agenti hanno scortato l'uomo in carcere dove sconterà la sua pena. Parliamo ora di coronavirus andando sul nostro sito internet dove come sempre diamo un'occhiata ai dati riferiti da Regione Lombardia nella serata di ieri. Eccoli qua, sono 22 nuovi casi di Covid-19 registrati a Brescia nella giornata di ieri, 224 in Lombardia. Diamo un'occhiata appunto all'infografica di Regione Lombardia, ormai siamo abituati ad interpretarla e a vederla. Su 16.828 tamponi, un numero comunque abbastanza alto anche se di riduzione rispetto alla giornata precedente, le nuove positività come detto in Regione sono state 224, di cui 40 considerate deboli e 6 a seguito di test sierologico. Diamo uno sguardo anche ai ricoveri, un dato fondamentale per valutare l'andamento epidemiologico. In terapia intensiva sono ancora 32 i ricoveri in tutta la Regione, quindi sono invariati rispetto alla giornata precedente, mentre purtroppo per i ricoveri convenzionali, quelli non in terapia intensiva, il totale regionale è 284. Nelle ultime 24 ore si è verificato un aumento di ben 12 nuovi ricoveri. Diamo uno sguardo anche al dato dei decessi, che in totale sono 16.908, purtroppo altri due decessi a causa del coronavirus nella giornata di ieri nella nostra Regione. Stando a quanto poi riportato da TS Brescia, nessuno di essi era relativo alla nostra provincia. E in merito proprio all'andamento epidemiologico, in merito a quelle che sono le conseguenze del lockdown e non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista lavorativo, Regione Lombardia ha deciso di far slittare il blocco dei veicoli diesel Euro 4 al prossimo anno. Slitta a gennaio 2021 la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel che era in programma per il 1 ottobre 2020. La decisione è stata assunta dalle regioni del Bacino Padano a luglio, in seguito alle valutazioni emerse dagli effetti conseguiti dopo il lockdown, come la riduzione delle emissioni, il persistere dello stato di emergenza, l'incertezza economica, i vincoli legati all'uso del trasporto locale e la persistenza dello smart working. La decisione è stata confermata dall'assessore all'ambiente di Regione Lombardia nel corso di tavolo aria, che si è tenuto in videoconferenze a cui hanno partecipato i rappresentanti dei comuni e delle province interessati alle limitazioni e alla circolazione dei veicoli inquinanti. A partire da gennaio 2021 sarà introdotto in Lombardia il divieto di circolazione dei veicoli Euro 4 diesel nei comuni della fascia 1 e nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti posti in fascia 2. Saranno estese limitazioni dei veicoli Euro 3 diesel nei comuni della fascia 2 e sarà introdotto il divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 benzina in fascia 1 e fascia 2. Misure temporanee anti-smog possono essere attivate fra il 1 ottobre e il 31 marzo di ogni anno e verranno applicate nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che appartengono alle fasce 1 e 2. Restiamo in tema per parlarvi di Safety Days. Ormai lo sapete, in questa settimana europea della mobilità la Polizia di Stato e la Questura di Brescia ogni giorno rilasciano un video di sensibilizzazione sulle varie problematiche che causano gli incidenti stradali, spesso purtroppo gravi o anche mortali. La tematica affrontata oggi è quella dell'utilizzo dei seggiolini per bambini in auto, una tematica che magari spesso passa in secondo piano ma invece riveste una fondamentale importanza per la sicurezza specialmente ovviamente dei bambini. Andiamo ad analizzare quelli che sono i dati forniti proprio dalla Polizia di Stato con anche degli interessanti consigli in merito all'acquisto di questi seggiolini per acquistare proprio quello giusto in base al proprio figlio. Dall'inizio dell'anno sono state elevate dalla Polizia Stradale 149 sanzioni per mancato uso del seggiolino per bambini all'interno dell'automobile. La Questura, nell'ambito della campagna Safety Days, ha voluto sensibilizzare e informare su questo tema magari spesso passato in secondo piano ma in realtà di fondamentale importanza. I bambini di statura inferiore al metro e mezzo devono infatti utilizzare un seggiolino che sia adeguato al loro peso e di tipo ovviamente omologato. Come detto, chi acquista seggiolini omologati dovrà prestare attenzione ad alcune accortezze specialmente in base al peso del bambino secondo questa classificazione in gruppi. Gruppo 0 fino a 10 kg, gruppo 0 più fino a 13 kg, gruppo 1 dai 9 ai 18, gruppo 2 dai 15 ai 25 kg e infine gruppo 3 dai 22 ai 36 kg. I seggiolini privi di schienale, i cosiddetti rialzi, possono invece essere utilizzati solo dai bambini di altezza superiore ai 125 cm. Nel 2018 è stato poi introdotto l'obbligo per chi trasporta bambini di età inferiore a 4 anni di utilizzare gli appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini. Attenzione perché la violazione dell'obbligo comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Fai viaggiare il tuo figlio nel seggiolino anche per percorsi brevissimi, può salvargli la vita. Salve il tuo padre, letta vivo, salva la vita! E grazie ovviamente alla Questura, alla Polizia di Stato per questi bei video di sensibilizzazione su delle tematiche davvero importanti. Questa sera nel nostro telegiornale delle 19 ovviamente vedremo anche il prossimo su una nuova tematica, su una nuova problematica da risolvere per ridurre l'incidentalità stradale. Ora invece cambiamo decisamente argomento, apriamo la nostra pagina sportiva, lo facciamo con le prime dichiarazioni di La Boico, il nuovo giocatore del Brescia Calcio, un nuovo centro campista classe 97, ha firmato il contratto e ha detto darò il massimo per il Brescia. Perché ha scelto il Brescia? Semplice, è un grande club con una storia unica. Così ha deciso di presentarsi Jacopo La Boico, il nuovo centrocampista del Brescia fresco di firma sul contratto. Sono orgoglioso di aver intrapreso questa avventura e di vestire bianco-azzurro perché ritengo che per me sia una chance importante. Il campionato di Serie B è molto competitivo e spero di dare una mano alla società a raggiungere gli obiettivi. Se facciamo bene col gruppo, poi, sarà possibile anche conseguire soddisfazioni personali. Prima, però, viene il Brescia, la carica del classe 97 polacco. In generale, sono convinto che questa sia una splendida opportunità per migliorare e posso solo dire grazie alla società per aver creduto e credere in me. Poi, La Boico ha raccontato un po' del suo modo di giocare a calcio. Amo stare al centro del gioco. Ho sempre apprezzato molto il modo di giocare di Pirlo per classe ed eleganza e anche Tonale mi ha piacevolmente sorpreso negli ultimi anni. Ora, però, sono focalizzato sul presente e futuro e darò un massimo per il Brescia. Ora cambiamo sport, parliamo di basket e di pallacanestro Brescia perché si inizia davvero a fare sul serio. Infatti, la Lega Basket ha ufficializzato le prime date, i primi orari del campionato e la Germani scenderà in campo a Varese la prossima domenica 27 settembre alle ore 17. Pensate, solo 48 ore dopo comincia l'Eurocup. Domenica 27 settembre, ore 17. Sportivi bresciani appassionati di basket e questo l'appuntamento da segnare in agenda perché è la data di inizio campionato per la pallacanestro Brescia. Prima partita di Serie A dopo l'emergenza sanitaria. La ripartenza contro Varese in una sorta di ideale rivincita dopo l'ultima sconfitta in Supercoppa. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito torneranno sul parquet per dare il via alla loro regular season 2020-2021. Forti di prestazione di carattere e grinta, senza ovviamente dimenticare il bel gioco delle ultime settimane. Pronti via 48 ore dopo ci sarà anche l'esordio in Seven Days Eurocup. Martedì 29 settembre la Germani vola infatti in Montenegro, dove alle 19.30 aspetta il Buduk Nostvoli. Fondamentale in entrambi i match partire con il piede giusto. Ci coccogliamo, ci prepariamo per quella che sarà una stagione importante, una stagione difficile, una stagione tutta in salita, indipendentemente da quella che è la volontà delle squadre e indipendente da quella che comunque sarà la volontà dei ragazzi sul campo, perché fuori dal campo ci sono ancora tanti problemi che andranno sicuramente risolti. Abbiamo fatto questa Supercoppa, abbiamo dato il massimo, abbiamo giocato, abbiamo cercato di lottare con le unghie, però direi che Milano era un po' più preparata rispetto a noi e soprattutto ci mancano ancora due giocatori per chiudere comunque quella che è la nostra squadra. Però abbiamo visto i ragazzi molto compatti, un bellissimo gruppo, un gruppo che sta lavorando insieme e quindi siamo fiduciosi che anche i due che in questo momento, uno soprattutto sta attendendo un visto ormai da quasi tre settimane, possa aggregarsi alla squadra e la settimana prossima insomma cercare di fare gruppo all'interno del campo. Abbiamo sentito anche le dichiarazioni della Presidente della Palacanestro Brescia, Graziella Bragaglio, che ha fatto un primo bilancio della Supercoppa ancora prima che iniziasse il campionato. Ovviamente in bocca al lupo per questo ritorno ufficiale, finalmente dopo mesi, sul parquet. E con questa notizia si conclude qui questa edizione del telegiornale. Vi ricordo che il modo migliore per rimanere informati è collegarsi sul nostro sito internet www.livebrescia.tv eccolo qui dove tutte le notizie sono continuamente aggiornate dalla nostra redazione dove potete seguire il canale 16197 in live streaming di questo piccolo box espandibile a tutta pagina e visibile anche da versione mobile. Attraverso questi banner invece è possibile accedere ai nostri canali Telegram. Live Brescia News ed è Live Brescia Sport. Le notizie arriveranno direttamente da voi sul vostro telefono cellulare senza alcuna fatica. Vi ricordo anche che l'informazione qui su eLive si aggiorna questa sera alle ore 19 e ovviamente siete tutti invitati. Grazie per averci seguito, una buona giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. So, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti.